Ascolti TV, amici e cantante chi ha trionfato top e flop. Amici di Maria De Filippi vince senza sforzo, un'altra volta, la sfida con Millie Carlucci. Ma registra un calo di 300.000 utenti rispetto a 7 giorni fa. Ieri ha intrattenuto 4 milioni di persone, 26.5% di share. Il cantante mascherato, dopo il flop della scorsa settimana, si riprende e incrementa il proprio pubblico di ben 400.000 utenti. Chiudendo con 2, 2 milioni di spettatori, 20, 4%. Da segnalare i numeri da incubo della novità di rete 4. 7 giorni, che esordisce con un 2, 3% di share. Di seguito tutti i dati relativi al primo time di sabato 22 aprile 2023. Canale 5 nettamente sopra Rai un lungo tutto il pomeriggio.